fratelli juventini e sole juventine bentornate alle juventus news vi avevo detto che le avrei fatte sempre e solo quando accadeva qualcosa di importante perché era inutile raccontarvi le favole di pinocchio allora partiamo da una notizia curiosa prima di entrare nel dettaglio della copertina che avete visto allora ceferin diciamo il presidente della uefa sta facendo la voce grossa sta facendo la voce grossa perché ha capito ha capito che molte squadre blasonate importanti tra cui le tre italiane diciamo top cioè juventus milano inter le due spagnole top cioè barcellona e real madrid il bayern di monaco e il paris saint germain soprattutto sono queste diciamo le squadre che stanno spingendo vogliono la superlega siccome se non dovesse nascere la superlega sotto l'egida dell'eca ok sempre con l'imprimato della uefa ma sotto l'egida dell'eca cioè della europea club association la uefa perderebbe potere perdere potere e perderebbe introiti perché probabilmente ci sarebbero delle sponsorizzazioni particolari non so provate a immaginare nike adidas puma canon piuttosto che nissan piuttosto che così sì immaginate le più rossi e major coca cola playstation sony microsoft apple che si vanno a cercare la pubblicità per avere poi l'introiti della champions league nuova quella che appunto sarebbe la superlega e capite quanto seferin si senta intaccato ecco che allora che cosa fa sputafango dicendo questa è una cosa che vogliono solo le squadre che vincono poco sì perché difatti il bayern di monaco real madrid il barcellona in europa sono squadre che vincono poco certamente sì sì anche il milan è una squadra che ha vinto poco in europa al milan certo sulla juve non posso dargli torto seferin anche sull'inter perché diciamo alla juve l'inter hanno due misere champions e tre misere champions l'inter e poi vincono una volta ogni morte di papa ma le altre sinceramente caro seferin mi devi scusare ma non mi sembrano proprio squadre che non hanno mai vinto niente a parte il pari che è una new entry nelle grandi d'europa da qualche anno e basta per cui staremo a vedere comunque è guerra è guerra come dice giustamente il mio amico dan è guerra aperta fra la juventus e altre squadre e la uefa vedremo chi la spunterà quindi loro ovviamente vogliono farla partire dal 2022 23 vedremo se sarà più forte la uefa non credo perché il coltello dalla parte del manico questa volta non ce l'ha la uefa ma ce l'hanno le squadre di club perché sono loro che ci mettono i denari e non è certo la uefa benissimo allora veniamo alla notizia pirlo non è soddisfatto della rosa che ha a disposizione questo lo aveva già detto pirlo ha un modo completamente differente di chiedere le cose ha avuto un incontro con nedved paratici e agnelli dove ha fatto presente che ci sono delle lacune in alcuni ruoli questo mi fa molto piacere l'ho saputo da fonti diciamo giornalistiche di torino e non solo tra parentesi mi fa molto piacere perché molti ragazzi giustamente come come voi che venite qua sotto mentre non è possibile che noi vediamo queste cose e in società non le vedano evidentemente pirlo per l'entusiasmo di essere allenatore del juventus e c'è anche da capirlo per il fatto che gli hanno dato carta bianca per come gestire la squadra e c'è da capirlo non ha puntato i piedi non ha alzato la voce alla chiusura del mercato ma sicuramente pirlo non è uno stupido pierlo sa benissimo che gli manca un terzino sinistro di qualità o per lo meno di qualità che possa dare respiro e spazio a sandro sa benissimo che manca un centro avanti di punto lui voleva tutti i costi zecco ve lo ricordate ma non glielo hanno preso sa benissimo che manca un playmaker sa benissimo che manca un grande interditore cioè insomma sa benissimo che questa rosa non è completa e questa rosa non completa gli potrebbe creare non pochi problemi alla sua carriera perché è chiaro che se questa juventus dovesse fallire lui verrà usato come capo espiatorio io sono il primo a dire che pirlo di colpe ne avrà pochissime perché se a me danno una 500 sfiatata per fare una gara contro una ferrari da formula 1 è difficile che riesca a battere la ferrari di formula 1 anche se sono il più grande pilota del mondo non credo che amminton su una 500 e un autista d'autobus sulla ferrari perda credo che amminton con tutta la bravura che ha arriverebbe più tardi rispetto a una ferrari a meno che l'autista d'autobus si vada a stampare contro un guardrail o contro un muretto per cui pirlo praticamente sta già chiedendo rinforzi per gennaio e di fatti di fatti c'è da dire a onor del vero che la società sta tessendo delle trattative delle trattative è tornato in auge ancora il discorso alaba vedremo vedremo ne parleremo nei prossimi giorni insieme al mio amico dan diciamo tenutario del canale youtube ma vi confermo come vi abbiamo già detto sia io che dan che la juventus sta stringendo i tempi per marsello a me il fatto che possa piacere o non piacere ad alcuni di voi mi dovete perdonare non mi interessa marsello sicuramente è uno dei trazioni più forti del mondo marsello è in rotta con il nero al madrid marsello è due anni che se ne vuole andare dal madrid voleva già venire insieme a ronaldo due anni fa alla juventus ronaldo lo sta tempestando di messaggi marsello vuole assolutamente raggiungere ronaldo sono amici nella vita nella vita non nel campo sono amici nella vita mogli figli e loro due quindi marsello farà di tutto per venire alla juve e nel momento in cui come vi abbiamo detto contro l'altro giorno peres ha praticamente lasciato via libera a gennaio con poco con poco più l'ingaggio marsello potrebbe essere un giocatore della juventus ricordo a chi non lo sapesse che marsello è un giocatore che nonostante abbia qualche anno in più di sandro non tanti perché ne ha 32 mentre sandro ne ha 28 è uno che senza correre ti mette la palla sulla testa o sul piede cosa che sandro non è mai riuscito a fare in quattro anni di juventus nonostante sia più giovane ricordo a loro signori che quando marsello crossa le difese avversarie tremano quando crossa sandro ridono i polli perché prende quasi sempre l'avversario o sbaglia il cross queste cose le voglio dire perché purtroppo ci sono molte persone che sono convinte che un giocatore dopo i 30 anni è vecchio e spesso credo che siano persone sotto i 30 cioè ragazzini che non hanno ancora ben capito che quando loro avranno 30 anni se qualcuno gli da del vecchio gli sputeranno in un occhio lo dico per esperienza perché mai dar del vecchio a uno quando ha 30 anni perché se voi date del vecchio buffon che ne ha 42 vi dà due pattone nella testa come se siete da le mie parti quindi la juventus come vedete sta cercando già di lavorare per la sessione invernale di mercato ovvero quella che si aprirà a gennaio non è l'unico giocatore che vogliono innestare anzi ve lo dico già adesso ve lo dico già adesso la juventus proverà ancora a prendere a war ok questa è proprio una notizia che vi do fresca 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 signori è fuori discussione se noi a gennaio non siamo troppo lontani dalle prime posizioni in campionato e siamo ancora come mi auguro in lotta per la champions league perché di fatto dovremmo male che vada anzi probabilmente arriveremo secondi nel girone con i sorteggi noi a marzo in champions e in campionato ovviamente subito a gennaio potremo avere un valore aggiunto di due grandi giocatori avar è un ottimo centrocampista sicuramente migliore di quelli che abbiamo adesso su questo non ci piove non mi fa impazzire ma sicuramente migliore e marsello signore tanta roba considerate sempre considerate sempre che bernardeschi probabilmente verrà sacrificato e che di bala se continua a rompere i maroni con i 15 milioni di contratto vedrete che verrà ceduto se non a gennaio a giugno quindi vi ho dato conto di queste notizie spero che vi faccia piacere ovviamente sono trattative il mercato è chiuso ma si possono fare trattative perché io posso telefonare a Perez e dire sei interessato a e lui mi risponde sì o no posso telefonare a Rummeniglia e dire sei interessato a e possono dire sì o no poi quando viene il momento che vengono stese tutte diciamo le basi per la trattativa quando apre il mercato allora facciamo e si fa oppure no questo è quanto signori vi auguro un buon fine settimana ci vediamo domani con il pre partita di la Spezia Juventus e con il contest pass la Spezia Juventus anzi mandate i pronostici perché è gratuito e poi alla fine che arriverà primo si vincerà una maglietta originale della Juventus ovviamente quando finirà la stagione della Juventus ciao a tutti fino alla fine Forza Juve forever and ever Uber Alice per lo uno di noi ciao ciao a tutti ciao a tutti